Sono reddice dalla caserma La caserma, ma l'irreality? Con tutti i ragazzini Ci racconti un po' Da quando ti sei svegliato stamattina Una narrazione Da quando mi sono svegliato stamattina È passata l'ottima Barbara Bontempi a prendermi a casa Tutta quanta Impaurita Ma cosa hai fatto? Ma sei un criminale Faccio mamma guarda Stai tranquilla, non ho ucciso nessuno Per il momento Ti è successa la classica cosa che è successa pure a me A Gianluca credo che I carabinieri a casa Bravo, ma è successo ancora peggio Praticamente sono andato a casa di mia madre Che è la mia residenza Non so perché non sono venuti al mio domicilio Vanno alla residenza Si presentarono a casa dei miei genitori Residenza, mia madre non c'era Vanno dal vicino Quindi capirai, cominciano le varie voci Di corridoio E infatti mia madre subito Stamattina quando mi è venuta a prendere Però adesso glielo dico Perché comunque la privacy Perché sono andato dal vicino Ho fatto Ma non ti preoccupare Poi spiega ai tuoi vicini la storia Insomma Non ho fatto nulla di grave Fa parte insomma degli imprevisti del mio lavoro Vabbè comunque Ma che hai fatto questa volta Davide? Ho fatto Ma non ti preoccupare Sarà sicuramente una cazzatina Una diffamazione Una lite temeraria Cose che succedono nel nostro lavoro Però se vuoi andiamo insieme Tanto la caserma è dietro a casa di mio madre Infatti penso siano andati da lei Anche perché è praticamente A 30 secondi da casa sua Il figlio della Bontempio è un criminale Esatto Vabbè Quindi mi sveglio Tutto a posto Funzioni fisiologiche Sempre un po' rallentate Causa prostatite Ma in miglioramento Vado lì Arrivo Molto cordiali Salve Così cos'ha Salgo Faccio mi dica Guardi adesso devi compilare Insomma i soliti I soliti fogli Quindi parla italiano Comprendi italiano No Vuole nominare un avvocato Altrimenti le sarà affidato Un avvocato d'ufficio Buttiamo gli estocroari Certo Cerchiamo la pecca dell'avvocato Cose di questo tipo Ok allora vi dico solo Che la denuncia Praticamente è per il seguente reato Articolo 167 Codice della privacy Trattamento illecito di dati Ok Infatti inizialmente ho detto Ma in che senso? Essenzialmente ragazzi Beh diciamolo Diciamolo I dati che avete dato Quando avete acquistato il biglietto Di ogni Cerbero Party Dobbiamo ammetterlo Sono stati da noi Messi in una In una roccaforte Virtuale E adesso Saranno usati Insomma a nostro piacimento Potremmo fare degli acquisti A vostro nome Potremmo utilizzare la vostra immagine Come meglio crediamo Esatto E per questo Pagheremo le contribuenze Insomma pagheremo il debito Con la legge Però ragazzi Ormai quel che è fatto È fatto A o e vai al soto O Vado al soto Quando cazzo mi pare Vabbè Tra l'altro Molto gentile Questo ragazzo Mi fa Qua c'è scritto Twitch.tv Ma io seguo ogni tanto Twitch Fa Seguo Paolo Cannone Ah vedi Ah sì sì Il carabiniere Sì Te lo giuro Te lo giuro su Dio Perché praticamente Ce l'ha scritto solo Questo punto contestato Questo articolo contestato E Diciamo Il reato commesso Presso Twitch.tv Fanno io Seguo Paolo Cannone Solitamente League of Legends Faccio Ah sì sì È un mio amico Ok ok Vabbè Essenzialmente ragazzi Chi è Chi è questo Adesso ho mandato l'avvocato Dai Ci siete arrivati anche voi Eh Chi è che ci ha rotto I collioni Anche su Youtube Mandando segnalazioni Per privacy Improprie Non è a Di Nolfi Ma infatti io Inizialmente pensavo Di Nolfi Ma troppo presto È proprio lui Il presidentissimo Il presidentissimo Che Giustamente Ha deciso di Rompere le scatole Alla giustizia Far perdere tempo Ai tribunali italiani Alle forze Dell'ordine Per una contestazione Di privacy In relazione Alle sentenze Mostrate Ed ha Denunciato solo me Perché Sono stato io Di intervistare Giba E Giba Ha mostrato La sentenza Di condanna Del buon press Tra l'altro Ho sentito anche Germano Però c'è una cosa Particolare Che Comunque Non ti è stato detto Alcun nome No Non mi è stato detto Il nome Perché Penso lui abbia Semplicemente Depositato la denuncia Penso lui abbia Depositato la denuncia Per privacy Però Il fatto che Abbia legato Twitch TV Praticamente Confrontandomi Con Germano Milite Ho Praticamente Associato immediatamente Al suo nome Perché a Germano Qualche mese fa È arrivata Nella stessa maniera Però Per diffamazione Ma scusa Ma non si dice sempre Chi ha degli pseudonimi C'è sempre qualche remora A denunciare Perché nel momento In cui denunci Al denunciato Arriverà Il tuo nome e cognome Quindi tanti Non fanno denuncia Per questo Scusa Come ha fatto A farla in maniera anonima Poi madarsi No Adesso praticamente Manderanno Direttamente a Croari Tutti i dettagli Però questo è Praticamente Lo step 1 Che devi fare Non mi ricordo Come si chiama adesso Qualcosa di domicilio Elezione di domicilio Elezione di domicilio Esatto Quindi lo step principale Ti dicono soltanto L'articolo Dell'indagine E altre informazioni Come questa Cioè A loro non è arrivato Il nome Cioè io glielo ho chiesto Ma ho detto No no Noi abbiamo ricevuto Solo questo Poi tutte le altre informazioni Le manderanno all'avvocato Però Sicuramente il presso Perché le modalità Sono state identiche A quelle di Germano Però Nel suo caso Diffamazione Quindi là Il nome glielo hanno detto Ovviamente Nel mio caso Evidentemente Non avendo proprio Basi per La denuncia Per diffamazione Ha detto Buttiamo così Una privacy Una privacy Goliardica E' anonima Quindi si può fare Anche una denuncia Anonima Cioè che io In generale Dico No Infatti Quindi questo Sarà soltanto Step 1 E a un certo punto Poi quando i dati Arrivano all'avvocato Che sono nominato Gli arriverà per forza Il nome Non è che puoi continuare Naturalmente Si vada nel merito Che magari venga Semplicemente archiviata Ma anche perché Considera che Ripeto Lui ha contestato Questa roba Della privacy In relazione Alla sentenza Mostrata da Giba Nella testimonianza Corregistrato Perché a differenza Di altre Tipo quelle Che avevamo Stato in live Con Germano Che erano pubbliche Quella è stata Mostrata Dal denunciante Cioè da Giba Ok La sentenza L'avevamo già detto Per truffa In alcuni casi Prescritta In altri casi Invece Condannato Il buon Saba E quindi ha detto Facciamo sta roba Di privacy Buttiamola lì Semplicemente Per Boh Intimorire Far perdere tempo Poi i tempi Della giustizia Lo sappiamo Sono lunghi Quindi io penso Lui l'abbia fatta Mesi e mesi fa Questo infatti Ad i Nolfi Mi sembrava un po' Troppo presto Eh un po' Repentina Come Come denuncia Erebbe bellissimo Tipo un giorno In pretura Con Matteo Saba Stupendo Come presenta Tipo Johnny Depp Con Amber Heard Capito Corpudino Tutto cool A paura di macchina Lo diceva Liccardo Noi facciamo come Johnny Depp Trasmettiamo tutto Twitch È il processo Mediario più grande Della storia del web Lo sfiderete di nuovo Cicalone Ma grazie Candy Io in realtà L'altro giorno L'avevo invitato Per la vicenda Vedremo Come Stai Ti sei ripreso Un po' meglio Vabbè Detto questo Sapremo Tra mesi L'esito Però Ovviamente Non sono minimamente Preoccupato Che si tratta Di un Di un tentativo Che ormai Conosciamo molto bene Sì Sì Non intacca Solo una rottura Di palle Essenzialmente Mi ha fatto verde Un paio d'ore Stamattina E pace Quello è Che ormai